Come va signore, è bello, ma c'è un cappone. Adesso c'è la boccia, prego, tranquillo con la boccia adesso e con lo soffio e con tutti. Ho avuto una scrittrice, una straniera. Questo è spizzero. Oh, buonga figlia. Oh, buonga figlia. il caverno e san pignone 2002 tu è amica tua? allora chiamala chiamala dai io ho un bicchiere di vino ti prendi un bicchiere di vino ti prendi anche tu un bicchiere di vino allora mi devo portare un altro bicchiere di vino allora auguri grazie 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 Grazie. Grazie.